Ho visto una battuta raccontata da Berlusconi che in realtà era una battuta che Stephen Wright diceva che incontrava questa ragazza cinese bionda così a caso su un autobus e diceva io sono una linfomane che è tratta solamente da cowboy e da ebrei e diceva tu come ti chiami? e lui dice piacere Bucky Goldstein che è il nome da cowboy e da ebrei e lui la diceva tipo uguale tipo però adattandola in italiano con arabi e napoletani Mohamed Esposito però è anche bello che pensi che a Stephen Wright viene attribuito maggior valore alla sua battuta però poi in realtà nella vita ha portato molto più lontano Berlusconi di quanto non abbia portato però l'ha detta che già era famoso non è che quello è stato il motivo per Milano 2 nel 94 ha detto fermi tutti Mohamed Esposito e tutti X